Bella spada. E magnifica daga. Non hanno contribuito con sufficiente quantità di grano per le scorte. Dovranno accontentarsi di quello che c'è. È da molto che non mi alleno. Posso andare a cercare il maestro d'armi, mia signora. Lui non ha battuto il mastino. Tu sì. Voglio allenarmi con te. Hai giurato di servire entrambe le figlie di mia madre. Giusto? Allontanati, Podrick. Non puoi usare quella, mia signora. È troppo piccola. Non preoccuparti. Non ti ferirò. Ci proverò anch'io. Non posso darle al giio. Allora. Chi te lo ha insegnato? Nessuno. Chi te lo ha insegnato?